Signore Gesù, ti voglio bene. Cristo è risorto! Buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Giovanni 21, 15, 19. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato, che per la terza volta gli domandasse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità, in verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse, seguimi. A me. Carissimi, oggi in questo ultimo capitolo del Vangelo secondo Giovanni abbiamo un episodio molto importante dove Gesù permette a Simon Pietro una riconciliazione perché diversi giorni prima, durante l'ultima cena Gesù aveva predetto a Pietro tu mi rinegherai ma Pietro stesso aveva risposto maestro, io non ti rinegherò mai io sono disposto ad andare con te fino alla morte invece non è stato fedele ecco che Gesù da risorto si manifesta a questo suo discepolo questo suo amico e gli offre una nuova possibilità di riconciliazione di adesione a lui e lo fa in un modo davvero particolare e l'Evangelista Giovanni che scrive come unico questo episodio lo scrive in greco in un modo molto originale in italiano e penso anche nelle altre lingue non lo comprendiamo soltanto se andiamo ai testi originali scritti in greco perché le prime due volte che Gesù chiede a Simon Pietro mi ami tu in greco viene usato il verbo agapao un verbo che significa amare ma è un amore tra l'altro nel mondo greco di cui si parlava pochissimo abbiamo quasi nessuno scritto dove si parla di questo agapao o di agape e Giovanni e quindi il cristianesimo adotta questo verbo per indicare un amore che non è quel termine e quel verbo che userà Pietro dicendo ti voglio bene cioè fileo che è un amore filantropico sociale un amore naturale materiale anche potremmo dire cioè io amo una persona così come sono così come posso ma l'amore di Dio non è un amore umano l'amore di Dio è un amore che scavalca i limiti umani ecco perché Gesù ha detto vi insegno a perdonare amerete gli altri come io ho amato voi perché è un amore che non è terreno quante volte noi diciamo io non riesco ad amare come Gesù mi chiede non riesco a perdonare non riesco a fare il primo passo certo che non riusciamo e non ce la faremo mai senza lo Spirito Santo che sta arrivando nuovamente con il giorno di Pentecoste tra qualche ora potremmo dire ecco che Gesù per due volte le dice Pietro mi ami e lo dice con questo verbo agape mi ami in questo modo totalizzante dall'alto divino Pietro risponde Gesù tu sai che ti voglio bene e usa quindi un verbo naturale Gesù parte dall'alto Pietro risponde dal basso cosa accade che la terza volta vedendo Gesù che Simone non riesce ad arrivare a quell'amore che gli sta chiedendo gli dice mi vuoi bene Pietro e usa lo stesso verbo questo fileo e allora Pietro dice certo Gesù tu lo sai che ti voglio bene che cosa ci insegna questo brano e se non lo guardiamo in greco non lo capiamo perché tutte le traduzioni nelle lingue non rendono nulla rispetto a ciò che davvero l'evangelista Giovanni ci vuole dire Pietro non aveva ancora ricevuto lo spirito santo fratelli e sorelle Pietro amava ancora in un modo terreno materiale naturale non amava in un modo soprannaturale e non avrebbe mai saputo dare la vita per Gesù anche se a parole diceva io sono disposto a morire per te così non è stato anzi ha rinnegato ecco che cosa ci insegna l'episodio di oggi senza lo spirito santo anche se diciamo che vogliamo amare come Gesù non ce la faremo mai senza lo spirito santo rimaniamo in un mondo naturale con lo spirito santo amiamo in un modo soprannaturale questo benedetto agape di cui si parla nella prima lettera ai Corinzi capitolo 13 e che noi traduciamo con carità anche questo stravolgente l'amore di Dio fratelli e sorelle è stato infuso nel nostro cuore per mezzo dello spirito santo amèn senza lo spirito santo senza invocare lo spirito ogni giorno vivere in Lui la nostra capacità di perdonarci tra marito moglie genitore figli amici colleghi questa capacità è misera e si ferma ecco la domanda che faremo sempre a Gesù quante volte devo perdonare mia moglie quante volte perdono mio marito quante volte devo andare incontro i miei amici e ci fermiamo e diciamo basta non ce la faccio più è finita chiaro perché abbiamo smesso di invocare lo spirito santo e perché conduciamo una vita che non è spirituale ma se invece noi ci lasciamo guidare dalla parola di Dio ci lasciamo guidare nei gesti nelle parole dallo spirito allora ameremo come Gesù stesso ci ha amato ecco perché Pietro dopo la Pentecoste si alza in piedi e inizia a annunciare il Vangelo e inizia a dare la vita per gli altri fino a darla a Roma per il nome di Cristo perché aveva lo spirito aveva la pienezza dello spirito santo senza del quale sono solo storielle il perdono sono delle idee inventate dai cristiani potremmo dire perché se non c'è una vita di fede anche questo commento non lo possiamo comprendere le parole del Vangelo questo Agapao fratelli e sorelle è un tempo benedetto tempo di invocare lo spirito santo e di essere diversi da come siamo in un modo naturale per amare come Gesù ci ha amato ecco perché noi rispondiamo alla domanda che Gesù dice a me a te oggi Luca mi ami e naturalmente diremo ti voglio bene perché non abbiamo le capacità di fare di più ma con lo spirito santo gli diciamo Signore io ti amo amè e allora invochiamo in questo momento lo spirito santo dicendogli pieno spirito tocca il nostro cuore tocca la nostra mente tocca la nostra anima entra nelle nostre vite entra nelle nostre case porta il tuo amore spirito santo porta il tuo Agape affinché possiamo essere diversi possiamo amarci come tu ci hai amato possiamo offrire al mondo un amore che il mondo stesso non conosce spirito santo voglio essere testimone di questo Agape usami fa di me uno strumento di pace di amore di armonia con le altre persone che oggi stesso io incontrerò e a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli amè cari amici lo slogan di oggi segue le parole di Pietro nel Vangelo Signore Gesù ti voglio bene sapendo che questo è un modo naturale di amare Dio nello spirito santo noi vogliamo dire Signore Gesù io ti amo amè ecco l'incoraggiamento che il Vangelo ci dà ad invocare il suo spirito quindi carissimi amici vi auguriamo una benedetta giornata per chi è qui vicino a noi abbiamo già detto più volte questa domenica invocheremo tutti insieme lo spirito santo qui a Strona con il nostro fondatore padre Riccardo e sarà un momento davvero molto molto forte per chi viene sappiate che il pranzo sarà al sacco quindi ognuno si porta da mangiare e qui vedrete c'è un bel areale dove consumare il cibo mentre in chiesa pregheremo tutti insieme grazie che mi avete accolto ci vediamo domani buona giornata ciao quante volte avevo letto e pregato queste parole ma in quel giorno mi hanno trafitto il cuore e ho sperimentato nuovamente l'amore personale forte e incondizionato del Signore Gesù verso di me tu mi hai amato fino a dare la tua vita allora ho sentito il desiderio di comunicare questa esperienza questa mia esperienza personale è contenuta in questo canto Yeshua con l'uscita di questo canto nuovo abbiamo pensato ad un videoclip da realizzare cercando una location dove creare un'atmosfera in cui l'idea chiave fosse stata la luce di Dio che splende nelle tene che porta vita e sperimenti